Jev, dopo la prima gara della nuova era di Formula E, penso che sarai molto soddisfatto da come è andato tutto, tranne la vittoria. Non sono molto contento di come è andato a Riyadh, perché abbiamo perso la vittoria e anche il secondo posto con l'altra macchina. Ma il motosport, penso che la buona cosa è che abbiamo una macchina che spinge bastante bene e speriamo di fare meglio qui a Marrakesh. Cosa ti aspetti di questa gara? Boh, vincere? Simple. Hai cambiato il look, si può sapere perché? La mia sorella l'ha fatto, non era io. Adesso avrai preparato tutto con il simulatore, il circuito lo conosci, avete lavorato in qualcosa di particolare per questa gara qua, per quanto si può fare in Formula E? Sarà una gara molto difficile per l'energia, penso che sarà molto più difficile che in Riyadh. Comunque vediamo come le altre team vanno ad andare, quello non lo sappiamo adesso. Aspettiamo e vediamo dopo la gara dove siamo.